Io sono sapetata dall'idea che la sordità nasce dal momento, anzi più che la sordità, la disabilità nasce dal momento che ti metti in relazione con un'altra persona. Loro mi hanno fatto sentire diversa, da un momento che io fino alla terza mese ero proprio tranquilla, non mi sentivo diversa, mi sentivo come una persona come tutte. Quando hanno cominciato a farmi sentire diversa, da lì sono sorti i primi problemi. E quindi nella pallavolo è successa? Perché hai iniziato il paese? Nella pallavolo fortunatamente no, perché nella pallavolo io sono sempre dall'idea che lo sport per adesso è forse l'unico mezzo che porta ad avere un'integrazione al 100%.